ciao ciao a tutti e benvenuti su archidei come vi avevo già anticipato nei video precedenti avevo intenzione di fare un tutorial sulla tecnica chiamata petri dish non è una tecnica di mia invenzione adesso vi dirò tutti i riferimenti ma intanto inizio a dirvi che dovete riempire le forme con la resina trasparente io sto usando la fil crystal la resina epostitica dell'area schimica che catalizza completamente in 24 ore ma si può tirar fuori dai calchi già dopo 12 ore ho sperimentato questa tecnica sia con la fil crystal che con la cristallè che è quella catalizzazione più veloce e tra le due ho una leggera preferenza per la fil crystal perché da modo al colore di scendere di più all'interno appunto delle delle creazioni che stiamo facendo proprio perché catalizza con tempi più lenti in ogni caso mi sono venute bene anche le creazioni con la cristallè quindi se avete già acquistato quella potete benissimo utilizzarla per questa tecnica le due resine sono talmente simili che per l'utilizzo in calchi così piccolini la differenza è veramente minima e quindi l'uso è molto soggettivo dopo aver messo la resina sto mettendo alcune gocce di colore sto utilizzando i colori ad alcool i pinata ink e color ink della stamperia è importante dopo aver messo un primo strato con gocce colorate mettere alcune gocce di colore bianco ho provato con diversi tipi di bianco ma l'unico che funziona ed ha veramente l'effetto che viene chiamato petri dish è il bianco del marchio pinata ink in alcune gamme di colori per alcuni marchi il bianco non viene proprio messo in produzione e io infatti avevo fatto dei tentativi con i coloranti in pasta con il colore per vetro e con il colore per ceramica bianco però non scende all'interno della resina nello stesso modo in cui scende il pinata ink bianco una caratteristica comune di tutti i coloranti con il bianco è che al solvente viene aggiunto il bianco di titanio che è ottenuto da biossido di titanio e da un effetto molto coprente vuol dire che all'interno del colore sono contenute le molecole di titanio che per sua proprietà è più pesante rispetto alle molecole contenute negli altri colori e quindi tende a scendere questo comportamento del colore bianco che attraversa gli altri colori e scende sul fondo della creazione per la sua pesantezza si ottiene naturalmente anche con gli altri coloranti di cui vi ho parlato però scendono nella resina in modo diverso o formano dei goccioloni all'interno della resina che si vanno a depositare sul fondo con delle macchie bianche rotonde oppure tendono a rimanere un pochino più a galla ma non danno l'effetto di tutti i filamenti che si vanno a creare con il pinata ink bianco in cui probabilmente è stato solto questo pigmento all'interno dell'inchiostro ad alcol un'altra cosa che ho notato è che questi colori ad alcol sono molto molto pigmentati e spesso può essere utile diluirli un po' per ottenere dei colori più pastello leggermente più smorzati a questo proposito ho acquistato l'extender sempre della linea dei pinata ink e l'ho utilizzato per diluire i colori all'interno dei bicchierini ho utilizzato i bicchierini anche allo scopo di mescolare i colori per non utilizzare semplicemente i cinque o sei colori che avevo già acquistato ma crearmi una piccolissima gamma di sfumature diverse e quindi per non avere creazioni sempre con gli stessi cinque colori ad esempio con il magenta e il blu ho ottenuto questo bel viola anche qui sono andata sempre ad aggiungere poi il bianco e poi un secondo colore sul retro il problema dei bicchierini è che purtroppo un bel po' di colore va sprecato perché tinge il bicchiere rimane aderente al bicchiere però finora non ho trovato una soluzione alternativa per mescolare i colori senza sprecarne troppo un'altra cosa importante da dire proprio a proposito del calco che sto utilizzando in questo momento è che io ho messo troppe gocce di colore specialmente nei cabochon piccolini e infatti in quei cabochon la resina è rimasta piuttosto morbida come dico sempre nei miei corsi ci vanno pochissime gocce di colore all'interno della resina altrimenti rischiate che non catalizzi io mi sono fatta prendere un pochino la mano dalla tecnica petri dish e ho abbondato con la quantità del colore quindi volendo fare un discorso più generale vi sconsiglio la tecnica petri dish per delle forme davvero molto piccole perché è difficile dosare le gocce in quantità minime prima quando vi parlavo del bianco che scende attraverso i colori vi parlavo anche dei filamenti di colore che si generano all'interno delle nostre forme quando utilizziamo questa tecnica per vedere enfatizzate il più possibile questo effetto dei filamenti il mio consiglio è quello di utilizzare dei calchi abbastanza più profondi la tecnica riesce anche nei calchi piatti però l'effetto più bello si ottiene appunto quando c'è un bel po di profondità quindi nelle sfere nelle mezze cupole o nelle forme piatte se coliamo almeno circa un 5 mm 5 o 6 mm di resina avrei voluto utilizzare questa tecnica nei calchi fatti da me nel video precedente ma in realtà ho utilizzato quei calchi per un altro tipo di creazioni e quindi non volevo essere ripetitiva però sicuramente prossimamente utilizzerò quei calchi con la tecnica petri dish e vi mostrerò poi il risultato non dimenticate di seguirmi su instagram o su facebook perché pubblicherò le foto il nome di questa tecnica deriva dalla piastra di petri o capsula di petri che appunto in inglese viene tradotto come petri dish ed è un recipiente di vetro o di plastica normalmente di forma cilindrica è un piatto tondo con il bordo rialzato e viene utilizzato in molti campi della biologia per la crescita delle colture cellulari e prende il nome dal batteriologo richard petri la tecnica però che si utilizza con la resina naturalmente non ha niente a che fare con richard petri ma ha a che fare con un artista che si chiama josie lewis ed ha un account instagram che si chiama petrified rainbow l'account petrified rainbow è in realtà il suo secondo account perché il suo primo account è josie lewis art in quanto si occupa di moltissime forme d'arte e di creazioni con tanti tipi di colori e non soltanto di creazioni in resina ed ha deciso di concentrare le sue creazioni invece con questa tecnica sull'account petrified rainbow appunto c'è anche un canale youtube dove ci sono i suoi tutorial e da qualche ricerca che ho fatto in rete credo sia la prima ad aver fatto i tutorial con la tecnica petri dish comunque è una delle prime persone a cui ho fatto riferimento quando ho iniziato a sperimentare questa tecnica e poi più recentemente ho scoperto un'altra artista che utilizza questa tecnica in modo ancora diverso e il suo nome è luna design la trovate anche lei sia su youtube che su instagram e ha fatto un tutorial qualche settimana fa per ottenere l'effetto piumato all'interno della tecnica petri dish da quello che ho capito a una mezz'oretta circa dalla colata della resina quindi quando non è più completamente fluida bisogna passare un bastoncino e creare appunto dei disegni con questo bastoncino all'interno della resina ho provato a farlo in alcune e alcuni elementi come questo disco e come anche nel cerchio che vedrete più avanti però all'effetto non mi è venuto proprio tipo il suo quindi diciamo che su quella variante ho ancora da studiare un po' ho notato però che anche lei diluisce i colori con l'extender che li mescola per ottenere delle gradazioni di colore diverso però visto che ha dei marchi di colore che non sono solo e pinata inks quindi forse l'effetto piumato è dato anche dal tipo di colore che si utilizza spero che tutte queste informazioni vi siano utili prima di iniziare la sperimentazione con questa tecnica se ancora non ci avete provato e anche se ci avete già provato magari vi ho detto qualcosa in più se invece avete già utilizzato questa tecnica e avete scoperto dei trucchetti che ancora non ho scoperto io mi raccomando ditemele nei commenti così vado subito a provarli questo qui è il disco di cui vi parlavo in cui ho passato all'interno il bastoncino creando una spirale si è creato un po' l'effetto nel disegno ma non è bello come le creazioni dell'artista che vi dicevo prima e vi lascerò comunque i riferimenti nell'info box se me ne dimentico sempre ricordatemelo nei commenti perché a volte pubblico il video e poi mi dimentico completamente di aggiornare l'info box questa stella è sicuramente una delle creazioni più belle che ho tirato fuori dai calchi ho notato anche che più sono grandi per estensione i calchi e meglio vengono le creazioni perché si riescono a dare tante sfumature di colore e il colore ha più spazio per spandersi in queste mezze sfere invece si vede benissimo l'effetto dei filamenti all'interno della resina se la superficie è curva sui bordi considerate che i filamenti seguiranno appunto la superficie curva e creeranno questi disegni molto molto particolari ah e un'altra differenza è che il colore bianco se viene dato vicino al bordo tende appunto a seguire il bordo del calco se invece viene dato al centro tende a scendere giù in modo perpendicolare e questo lo vedremo dopo con il calco delle sfere quando ho selezionato le forme per creare con questa tecnica sono andata a guardare proprio tra i miei calchi quelli che avevano una maggiore profondità e che erano abbastanza abbombati per vedere proprio la curvatura sui bordi ho utilizzato anche il calco a cubetti che facendola un molding sono schizzati via per vedere come si comportava il colore all'interno di una forma più netta e geometrica comunque sicuramente nei prossimi mesi voglio provare altri tipi di colore ad alcol anche perché voglio prendere una bella gamma di sfumature per non stare ogni volta a mescolarli soprattutto mi piacerebbe avere qualcosa sul turchese verde acqua e qualcosa sui toni del rosa ma un pochino più smorzato perché questo che ho io è quasi un rosa fluorescente poi mi manca completamente il rosso un colore che vado a fare spesso e quindi vale la pena di comprare è il viola poi vorrei acquistare una bella tonalità di blu oltremare ed invece tra quelli che ho acquistato ce n'è uno che non mi piace assolutamente ed è il marrone nelle creazioni che ho fatto precedentemente ovunque mettevo il marrone non mi piaceva poi la creazione che veniva fuori quindi abolito per me dalla gamma di colori che utilizzerò per la tecnica petridish questo qui è il calco con le forme rimaste un pochino morbidine c'è da dire che non le ho tirate fuori dopo 24 ore ma erano passate anche meno di 12 ore perché ero troppo curiosa e non ho saputo aspettare alla fine le ho utilizzate lo stesso le ho lasciate indurire per altre 12 ore adesso sono belle solide e le sto inglobando dentro ad altre creazioni se volete vedere che fine faranno questi piccoli esperimenti come vi ho detto prima continuate a seguirmi sia qui su youtube ma anche soprattutto su instagram e su facebook dove mi collego e metto ogni giorno delle nuove foto in conclusione spero che vi sia piaciuta la mia interpretazione di questa tecnica che il video vi sia stato utile e spero che presto anche voi vi metterete a sperimentare con i colori ad alcol perché è veramente molto divertente ed è facilissimo vi invito a iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video vi invito anche a mettere like e a condividere questo video sui social per sostenere il mio canale e vi ricordo che ho uno studio a Roma dove svolgo dei corsi su appuntamento e i corsi sono a tema resine ma non solo anche sulle paste polimeriche e sulla tecnica wire vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao